Buonasera a tutti e bentrovati a questo ultimo webinar di un ciclo di eventi che ci ha accompagnato lungo questo anno alla scoperta e all'approfondimento di quelle che sono le strategie del Green Deal che interesseranno le imprese e più in generale tutte le organizzazioni pubbliche e private da qui al prossimo 2030. Questa sera parleremo di una strategia molto importante che riguarda un settore sicuramente molto critico e che ha un importante impatto non solo dal punto di vista ambientale e sociale ma anche dal punto di vista economico su quello che è il mercato europeo. Parleremo appunto della strategia dei prodotti tessili sul mercato europeo. Prima di andare a guardare nel dettaglio su quali sono appunto le linee guida della strategia europea partirei con una premessa che riguarda il contesto economico nel quale si inserisce appunto il settore tessile. Direi di partire da uno dei primi aspetti sicuramente quello più sensibile e di provare a tirare fuori anche qualche dato in termini di produzione e di consumo appunto di abiti e più in generale di prodotti legati all'abbigliamento. Per quanto riguarda il fast fashion ovvero la cosiddetta moda veloce nel corso degli ultimi anni ovviamente abbiamo assistito ad un aumento di quantità di abiti e prodotti e in alcuni casi ovviamente gettati velocemente via. Alcuni dati della Commissione europea hanno ovviamente attenzionato quelle che sarebbero state poi le linee guida della strategia e uno di questi impatti sui quali diciamo è necessario porre particolare attenzione che in media i cittadini europei consumano ogni anno circa 26 chili di prodotti tessili e ne smaltiscono circa 11 chili. Gli indumenti usati nella maggior parte dei casi sono poi esportati come rifiuti al di fuori dell'Unione europea e allo stesso tempo solo una minima parte di questi viene recuperato e che per lo più vengono inceneriti o portati in discarica. Oltre a questo danno di natura di impatto diciamo dal punto di vista ambientale che poi andremo ad approfondire nello specifico, dobbiamo anche dire che il comparto industriale del settore tessile è molto importante dal punto di vista economico perché svolge un ruolo molto determinante all'interno dell'economia europea. Comprende oltre 160 mila imprese dal lavoro circa ad un milione e mezzo di persone e nel 2019 secondo i dati diciamo degli ultimi rapporti appunto che si focalizzavano sul fatturato europeo questo generava circa 160 miliardi di euro. La produzione del tessile diciamo rappresenta un problema non soltanto dal punto di vista diciamo dello smaltimento dei rifiuti, ha un alto impatto dal punto di vista ambientale soprattutto per la modalità attraverso il quale la quale si realizza la produzione industriale e nello specifico mi riferisco sia all'impiego di terreni utilizzati appunto per la coltivazione delle materie prime vergini e alcune stime infatti indicano che per fabbricare una sola maglietta di cotone ci sia bisogno di oltre 2700 litri di acqua dolce e di un volume diciamo per persona che una persona dovrebbe bere di acqua almeno in due anni e mezzo. La produzione tessile quindi oltre che dal punto di vista dell'occupazione del suolo ha un forte impatto su quanto riguarda la Blue Economy non solo in termini di approvvigionamento di risorse ma anche per quanto riguarda lo smaltimento appunto delle acque che sono state che vengono utilizzate soprattutto nei processi tintori e nella finitura e sappiamo benissimo l'attenzione appunto alle microplastiche soprattutto per quanto riguarda le fibre sintetiche rilasci anche in termini di impatto ambientale delle fibre che poi queste micropastiche vanno in ultimo a finire appunto sull'impatto degli oceani e dei mari. Ho cercato di riportare anche l'altro aspetto della medaglia ovvero oltre al termine della produzione cercare di capire come un capo acquistato può effettivamente comportare un impatto in termini di ambiente. Sappiamo infatti che il poliestere è una delle fibre più utilizzate soprattutto in ambito fast fashion e con un unico carico di bucato di abbigliamento in poliestere ci si può imbattere in un rilascio di 700.000 fibre di microplastica che finiscono e tornano poi ovviamente all'interno della catena alimentare come attraverso i prodotti ovviamente che ci vengono resi dalla terra come ad esempio frutta, acqua e insomma tutta la catena alimentare ma anche nell'allevamento ad esempio di pesci e di allevamento appunto animale che ovviamente essi stessi recepiscono le stesse sostanze dannose per l'uomo. La maggior parte delle microplastiche è poi interessante sapere che vengono rilasciate principalmente durante i primi lavaggi e sappiamo appunto che la moda veloce si basa proprio su una produzione di massa a bassi prezzi e ad alti volumi e soprattutto nella prima fase del ciclo di vita di prodotto ci sono numerosi primi lavaggi e si calcola inoltre che oltre a questo impatto in termini di microplastiche l'industria della moda sia responsabile di oltre il 10% delle emissioni globali di carbonio e più infatti del totale di tutti i voli internazionali e del trasporto maristimo messi insieme. Secondo i dati dell'Agenzia Europea che vi ho riportato anche all'interno di questa infografica che è possibile appunto andare a reperire sul sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente si sono generati circa 270 kg di emissione di carbonio a persona proprio per l'acquisto di prodotti tessili ma oltre all'aspetto ambientale qual è l'impatto della produzione e dei rifiuti tessili dal punto di vista sociale l'attenzione della strategia si è concentrata non soltanto sulla domanda e sul consumo di prodotti dal punto di vista ambientale. Infatti sappiamo che numerose delle supply chain soprattutto del fast fashion si rivolgono proprio in ottica di abbattimento di prezzi ma anche di elusione di linee guida dal punto di vista ambientale a catene di lavoro dislocate in paesi in via di sviluppo dove addirittura ad esempio il lavoro minorile all'interno di questa industria destra delle particolari preoccupazioni. Oltre a queste preoccupazioni c'è un aumento del gap della retribuzione perché in questo settore soprattutto tessile e quindi nei paesi in via di sviluppo sono le donne a fare la maggioranza dal punto di vista operaio e quindi comporta un ampliamento anche di altri gap legati appunto agli obiettivi di sviluppo sostenibile come quello della parità di genere, del lavoro insomma eco e dignitoso quindi dal punto di vista diciamo di valutazione di quelli che sono gli impatti di questa industria non possiamo ovviamente soffermarci soltanto dal punto di vista ambientale ma occorre appunto chiedersi quanto di questi prodotti sia effettivamente realizzato in condizioni di lavoro dignitevoli ed etiche. Questo è una premessa attraverso il quale siamo in grado di andare ad inquadrare quello che è lo scenario della strategia dei prodotti tessili in UE. La principale problematica è legata ovviamente al mondo del fast fashion. La produzione globale di fibre tessili è quasi raddoppiata e si prevede che crescerà di oltre 145 milioni di tonnellate entro il 2030. Quali siano le cause che prevedono questa crescita? Ovviamente c'è menzionato all'interno proprio della stessa strategia la promozione di modelli di consumismo estremo soprattutto rafforzato attraverso canali di comunicazione come quelli ad esempio social che ampliano e sensibilizzano i consumatori ad acquistare sempre di più in virtù di prezzi ragionevolmente sempre molto bassi. Quindi la leva è concentrata principalmente su una su una questione estetica più che verso opzioni sostenibili e su una moda che è soggetta ovviamente a trend molto brevi. Quindi la strategia in realtà si pone all'interno di questa problematica cioè si pone all'interno di un problema di modello di sviluppo di nuovi business che tengono conto non solo di quelli che sono gli impatti dal punto di vista ambientale sociale ed economico delle imprese ma guarda anche al consumo responsabile da parte dei consumatori che porti appunto a comportamenti più consapevoli e magari ad acquistare meno capi ma di maggior qualità ed in generale quindi cercare di orientare il comportamento dei consumatori verso opzioni più sostenibili. Questo ovviamente sempre in virtù di quella che è l'ambizione del Green Deal europeo cioè nell'osservanza di quella che è la strategia che ha una definizione degli obiettivi dell'agenda 2030 all'interno di modelli di crescita economica. Quindi proprio per questo da un lato si punta a cercare una normazione che guardi a nuovi modelli di progettazione di uso di riutilizzo e di riciclo dei prodotti e dall'altro sensibilizza al consumo proprio come ci ricorda il goal 12 dell'agenda 2030 produzione e consumo responsabile e all'interno ovviamente di questa ambiziosa strategia del Green Deal il settore tessile recepisce non solo quella che è la strategia appunto che riguarda la produzione di abbigliamento e più in generale di capi tessili ma ovviamente risulta influenzata dalle innumerevoli altre norme che riguardano il grande pacchetto del Green Deal. Quali sono le linee guida di questa strategia? Per quanto riguarda le linee guida principalmente potremmo dire che queste sono quattro. La prima sicuramente quella più importante è quella della spinta data sul mercato UE all'eco design. Quando parliamo di eco design ci mettiamo appunto non solo sul lato appunto dell'analisi a valle del prodotto ma ci inseriamo da un punto di vista strategico a quella che è la scelta di design a monte di tutti i prodotti tessili che possono essere messi sul mercato europeo. E questo guarda ad un set di requisiti che guardano non solo al modello di produzione ma anche all'utilizzo delle fibre che sono utilizzate all'interno del processo di quali sono i diritti sociali che vengono garantiti durante appunto tutta la supply chain di approvvigionamento e soprattutto guarda alla qualità del capo che viene progettato per essere durevole e alla fine del suo ciclo di vita deve addirittura si deve addirittura consentire la riciclabilità. Questo lo vedremo nello specifico quando parleremo anche di un ulteriore passaggio che riguarda appunto l'etichettatura digitale perché in questo momento non ci sono linee guida specifiche su quelle che sono anche le fibre che devono essere utilizzate all'interno della progettazione ma sappiamo che la moda rapida spinge molto sulle fibre sintetiche e quindi ovviamente su un abbattimento di prezzi con tutte quelle che possono essere anche le conseguenze come abbiamo visto in termini di microplastiche o più in generale di come effettivamente vengono prodotte queste fibre lungo tutta la catena del valore perché insomma sappiamo che i processi tintori che avvengono in paesi in via di sviluppo sicuramente non seguono delle diligence dal punto di vista chimico rispetto a quanto già magari disciplinato all'interno del... scusate sto leggendo la chat per questa sera il webinar non sarà accreditato presso l'ordine quindi non ci saranno codici che verranno dati e quindi consumatori dal punto di vista diciamo dell'ecodesign in che modo possono fare la differenza sicuramente la spinta appunto che viene data sulla sulla trasparenza di informazione è quella di cercare di fornire un panel più trasparente possibile di tutti quelli che sono gli aspetti di sostenibilità che riguardano il prodotto e questo per per far sì anche che il settore tessile viva di una competitività equa e resiliente che non miri semplicemente alla pura logica del profitto quindi a quella famosa relazione di cui abbiamo parlato spesso p per q ma nella quale i produttori si assumano la responsabilità di informare i consumatori anche di tutti quelli che sono gli impatti dal punto di vista ambientale sociale oltre che ed economico e quindi l'ecodesign inteso come obiettivo di dare maggiore vita ai prodotti e consentire appunto di riparare aggiornare o riciclare facilmente gli stessi il diritto per quanto riguarda l'espressione che c'è stata da parte della commissione europea nel marzo 2022 si è proprio parlato di questa necessità di rendere i tessuti più durevoli riparabili riutilizzabili e riciclabili stimolando ovviamente un metodo di produzione che guardi all'innovazione anche all'interno appunto di un comparto dove ci sembra tutto abbastanza scontato abbastanza diciamo normale la presenza di alcune alcuni comportamenti che poi in realtà sappiamo che hanno un impatto significativo sia in termini di impatto sul clima e sull'ambiente ma soprattutto in termini ovviamente di condizioni non eque di produzione. Prolungare la vita dei prodotti vuol dire anche in qualche modo ridurre significativamente i rifiuti e quindi l'impatto sull'ambiente e in questo caso la progettazione ovviamente diventa fondamentale. In una fase diciamo di produzione la maggior parte di quelli che sono i difetti di qualità che sono visti come ad esempio una solidità del colore, una resistenza alla lacerazione o la qualità delle cerniere e delle cuciture sono tra i principali motivi che spingono i consumatori a disfarsi dei prodotti tessili e quindi come questi difetti di qualità possono essere ovviamente colmati e in tutto questo si necessita ovviamente quell'innovazione che si richiede appunto al settore. Il diritto alla riparazione rientra in una delle grandi linee strategiche che viene affrontata non soltanto all'interno della strategia del comparto tessile ma vi faccio un altro caso ad esempio sui sistemi di natura informatica anche nella stessa 825 che in qualche modo parla e sottolinea di quelle che sono le pratiche commerciali sleali si va effettivamente a dare una menzione particolare su quello che è il diritto alla riparazione. Il diritto alla riparazione come strategia per colmare quella che è l'obsolescenza precoce dei prodotti alle quali purtroppo siamo abituati nel modello consumistico. Le linee guida della strategia guardano in modo particolare anche alla composizione dei materiali. Infatti tra la progettazione di un prodotto sicuramente andare a considerare quella che è la composizione dei materiali comprese anche le fibre utilizzate e la loro mischia è di importanza primaria non solo per la durabilità dei beni perché sappiamo che alcune fibre sono più resistenti di altre ma sono molto importanti anche per andare a riciclare correttamente i rifiuti tessili perché meno dell'1% dei prodotti riciclati viene riutilizzato in nuovi prodotti tessili a livello mondiale e questo perché c'è spesso una mischia di componenti tra loro che non consente appunto di andare a ricavare una materia prima di alta qualità ma avviene il cosiddetto downcycled che attraverso i quali si possono realizzare materie prime seconde come ad esempio parli per la pulizia industriale o altre applicazioni e tutto il resto ovviamente va disperso insieme a una mancata raccolta corretta dei prodotti. Nelle fabbriche avviene anche altro però oltre alla composizione dei materiali bisognerebbe andare a guardare anche la cosiddetta quantità di invenduto perché spesso sempre di nuovo spinti dalla moda consumistica i magazzini restano pieni di prodotti tessili e questi soprattutto in termini di abbigliamento e di calzaturiero non possono essere riutilizzati in secondi cicli industriali ma nella maggior parte dei casi rappresentano dei rifiuti che andranno poi dismessi all'interno di discariche senza ovviamente considerare il danno delle risorse che sono state utilizzate per la realizzazione degli stessi. E quindi la distruzione delle merci invendute è un'altra delle linee guida della strategia che punta ovviamente alla riduzione drastica dei tessuti invenduti o dei resi. La commissione infatti ha proposto un obbligo di trasparenza che impone alle grandi imprese di rendere pubblico quali sono i prodotti che vengono buttati o distrutti e il loro ulteriore trattamento che viene fatto ai fini della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio per l'incenerimento o il successivo collocamento in discarica. Che cosa, qual è la grande novità da questo punto di vista? È che la strategia introduce per la prima volta il concetto di responsabilità estesa del produttore. Che cosa si intende per EPR? È un termine che abbiamo sicuramente sentito spesso ed è un concetto che è stato introdotto dalla direttiva 851 del 2018. Impone ai produttori di beni immessi sul mercato dell'Unione Europea l'obbligo di contribuire ad una corretta gestione dei rifiuti generati dai loro prodotti. Questo principio ovviamente è finalizzato a limitare la produzione dei rifiuti per se consumere e allo stesso tempo dall'altro lato cosa fa? Promuove l'ecodesign e incentiva le imprese a farsi carico già all'interno della progettazione di quello che sarà la gestione del fine vita dei prodotti. Lo scorso luglio 2023 la Commissione Europea ha pubblicato i piani per la revisione della direttiva quadro sui rifiuti che comprende all'interno di questo piano ovviamente anche il comparto tessile con la proposta di istituire dei sistemi EPR obbligatori e armonizzati per tutti i paesi con delle tariffe che varieranno ovviamente rispetto all'inquinamento causato. Il sistema di etichettatura digitale sarà una leva che forzerà i produttori a dover descrivere quelle che sono le caratteristiche e la composizione fibrosa dei tessili oltre a evidenziare la presenza di parti eventualmente non tessili come quelli che possono essere di natura animale scusate. La principale lotta è quella all'inquinamento da microplastiche. Le microplastiche si stima che circa il 60% delle fibre utilizzate nell'abbigliamento siano sintetiche e provengano principalmente dal poliestere e questa è una percentuale in forte aumento perché c'è una spinta ovviamente anche consumistica sul prodotto tessile. Lo stesso consumatore ha poca percezione di quello che potrebbe essere l'impatto di un capo di poliestere o ha poca attenzione di quelli che potrebbero essere anche i flussi attraverso i quali si realizzano ehm si realizzano appunto gli impatti sociali di questa industria molto fast ehm poiché ehm la la moda rapida è ovviamente associato a ad un concetto molto eh differente rispetto a quello della della sostenibilità eh e e principalmente eh foraggia eh le grandi lobby eh del fossile. Tra ehm tra le altre eh leve che sicuramente eh potrebbero aiutare alla lotta dell'inquilamento da microplastiche si osserva da un lato ovviamente la la riduzione di queste stesse fibre all'interno dei processi produttivi. dall'altro anche quello della possibilità di ampliare le tecnologie eh su settori complementari. Mi riferisco soprattutto al caso dei filtri delle lavatrici che ehm stanno studiando delle soluzioni che potrebbero ridurre ben dell'ottanta per cento il volume che viene effettivamente rilasciato eh durante i lavaggi. ehm allo stesso tempo si eh si ehm c'è un'industria eh del del comparto chimico che è quello che riguarda i detersivi appunto che ehm utilizziamo per il trattamento dei capi eh che eh potrebbero seguire le linee guida della cura e del lavaggio ma essi stessi magari ehm hanno probabilmente ehm una eh un'osservanza eh di criteri ambientali già molto più sostenuta rispetto a quella del comparto tessile. Ecco la sinergia ovviamente dei mh di tutti i settori che sono complementari eh al tessile eh non dico che potrebbe portare ad un abbattimento eh delle microplastiche ma sicuramente ha eh una visione realisticamente eh realisticamente strategica da qui a quello che è l'obiettivo eh del venti trenta. Eh interessante in termini di obblighi di informazioni e qui eh ovviamente eh si ehm si innestano eh molte direttive tra loro tra cui anche la 825 di cui abbiamo parlato ma anche il sistema delle asserzioni ambientali. Cosa accadrà con il passaporto digitale dei prodotti? Eh attraverso un passaporto digitale che eh invito diciamo mh a scovare su internet nomi già di importanti brand che eh soprattutto di alta moda e con una qualità eh manifatturiera altamente made in Italy eh hanno ovviamente già eh introdotto mh eh invia mh da una parte eh innovativa dall'altra parte eh compliance perché hanno già fatto eh hanno già posto all'interno di di alcune linee di prodotto quelle che saranno poi effettivamente gli obblighi che riguarderanno eh a scalare tutto il comparto. eh attraverso eh dei QR code eh o più in generale ehm magari all'interno di eh chip che vengono inseriti eh in modalità NFT all'interno dei prodotti c'è la possibilità di andare a tracciare quello che è effettivamente il passaporto di quel prodotto. eh cosa fa il consumatore eh quindi al momento eh che ha eh l'intenzione di acquistare il prodotto o più in generale eh ovviamente eh anche a monte dell'acquisto. Avrà informazioni chiare e strutturate su tutte quelle che sono le caratteristiche della sostenibilità che riguardano il prodotto comprese soprattutto le caratteristiche di garanzia commerciale e di garanzia legale. che mh purtroppo anche queste sono molto eh sono obbligatorie ma non sono rese sempre molto chiare eh al al consumatore finale. E l'etichettatura eh dovrebbe eh consentire poi ovviamente in modo trasversale eh all'interno di tutto il mercato UE eh di avere una visione chiara di tutte quelle parti che eh compongono il processo produttivo eh del prodotto. Quindi eh ci sarà un obbligo di informazione che riguarda la sostenibilità, la circolarità, eh il paese in cui si svolgono i processi di fabbricazione e il cosiddetto eh caso del made in ovvero eh di come si è attribuita l'origine non preferenziale del prodotto. Eh e quindi quale sia l'ultima lavorazione sostanziale che consenta al prodotto di eh ricevere eh il marchio made in. eh l'ultima lavorazione sostanziale eh sappiamo che è quella che eh da poi il marchio e il marchio di fabbrica eh del dell'origine del paese del prodotto. eh quindi il cosiddetto made in Italy, made in Germany o quant'altro. Eh all'interno ovviamente di questa etichetta eh si inserisce una complessità che riguarda che cosa? Eh l'iniziativa eh da parte di eh delle direttive eh della della direttiva 825 eh che eh modifica eh la direttiva sulle pratiche commerciali israeli la 29 del 2005 e l'83 del 2011 dove eh si parla eh in modo chiaro eh di come eh debbano essere rese le informazioni eh sul mercato UE e affermazioni che che riguardano non solo eh le eh le dichiarazioni ambientali ma anche le dichiarazioni di natura sociale perché sappiamo che la 825 parla indistintamente sia eh degli aspetti ambientali e degli aspetti sociali. Eh anche se poi all'interno eh all'interno della norma che è già stata pubblicata sulla gazzetta eh ci sarà il recepimento da parte del degli organi eh di governo nazionali eh ma si parla allo stesso modo di impatto ambientale e di impatto sociale. Poi eh sarà in arrivo ovviamente con l'insediamento della nuova legislazione l'ultima approvazione che riguarda i green claims e quindi di come le asserzioni ambientali di natura principalmente ambientale debbano essere rese al consumatore. Fatto certo è che comunque le autodichiarazioni eh saranno eh rese ehm il meno eh saranno altamente limitate eh e quindi autodichiararsi eh genericamente eh responsabili e sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale eh non sarà mh così possibile perché si entrerà eh nello spettro ovviamente della vaghezza e quindi eh come effettivamente mh andranno eh comunicate le asserzioni eh dovrà esserci o un processo di certificazione come ad esempio quello del dell'Ecolabel per i prodotti per i prodotti che eh garantisca ai produttori di rispettare dei criteri ecologici oggettivi che possono ovviamente dare una maggiore visibilità agli stessi sul mercato e eh una serie ovviamente di eh informazioni che non non entrino ovviamente nel nello spettro del della ma della vaghezza e in più in più in generale delle delle pratiche commerciali sleali che comunque eh restano non consentite all'interno del mercato UE. Qual è qual è il il passo importante della strategia rispetto all'operatività? eh il l'aspetto molto molto interessante è che ehm l'aggiornamento eh della strategia industriale UE eh da un lato eh ovviamente evidenzia la necessità di dover accelerare e eh di recepire il pacchetto del Green Deal che guarda non solo la transizione ecologica ma anche una transizione digitale e quindi di andare a rafforzare quella che è la resilienza eh del dei sistemi industriali dell'UE. Dall'altra però eh è stata affrontata proprio prima dello scioglimento mh del del Parlamento europeo eh è stata affidata ehm a Mario Draghi di un'analisi di quella che è effettivamente ehm l'analisi della strategia industriale complessiva del dell'UE. E ci sono delle osservazioni che eh ci lasciano presagire di quello che potrebbe essere l'indirizzo ehm della prossima legislatura europea eh anche laddove eh gli equilibri politici eh fossero mh sostanzialmente diversi da quello corrente. Eh l'obiettivo sicuramente è quello di andare a garantire una concorrenza leale e un rispetto delle norme in un mercato che eh interno che sia ben funzionante. Ehm purtroppo eh da quello che è emerso appunto da questa da questa analisi della strategia industriale è che all'interno dell'UE eh l'argomento eh competitività eh è stato eh è stato visto sempre eh dal punto di vista eh del contesto globale. Eh in realtà mh quello che eh l'Europa costruiva nel mondo di eri è molto diverso da quella che da quella che è la competitività ma soprattutto da quelle che sono le crisi in atto eh in questo contesto eh geopolitico e e geoeconomico. Ehm quello che si è fatto è sicuramente di eh guardare molto alla competizione all'interno dell'UE e soprattutto tra eh i paesi eh politicamente più rilevanti eh mentre ci si è dimenticati mh quale potesse essere la sfida eh internazionale di questo Green Deal secondo quelle che potevano essere delle regole degli stati che hanno messo in atto ehm rispetto anche a quelli che sono stati gli indirizzi di natura europea e questo eh ci porta a sottolineare un degli aspetti molto importanti anche sulle linee guida del futuro. Anzitutto eh la Cina anche eh complice non solo il settore tessile ma anche eh il settore elettronico eh ha occupato gran parte di tutta la filiera delle tecnologie avanzate Green. Eh e questo rappresenta ovviamente eh un deterrente a quello che riguarda poi la competitività di eh di questi comparti all'interno dell'Unione Europea. Eh si chiedono norme eh molto stringenti però allo stesso tempo eh queste tecnologie sono state eh in qualche modo completamente ehm completamente occupate eh in in situazioni anche quasi di oligopolio da altri paesi. Gli USA eh anche prima eh di una possibile rielezione di Donald Trump hanno avviato delle politiche protezionistiche per aumentare eh la capacità manifatturiera interna. Ehm l'Europa rispetto a queste due grandi macro eh non ha mai avuto un'equivalente strategia industriale e ciascun paese ovviamente ha pensato ai propri interessi. Rispetto alle nuove tecnologie eh l'Europa ha solo quattro grandi società tra le prime cinquanta globali. Eh questo eh non per dire eh che ehm l'assetto diciamo gradito sia quello della 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 grande società ma eh sicuramente che quello della frammentazione non non ha garantito eh la forza eh di molti settori e una ed è mancato allo stesso modo anche di fronte eh rispetto a eh pacchetti eh normativi eh interessanti diciamo dal dal punto di vista eh dell'evoluzione e dei comparti industriali ne è mancata una strategia. Eh è mancata una strategia per proteggere l'industria anche da condizioni di disparità globale dovute da asimmetrie eh ad esempio sulle regolamentazioni eh regolamentazioni come possono essere quelle legate all'emissione eh di cui abbiamo sentito eh di cui sentiamo spesso parlare e di cui ovviamente si si cerca soprattutto anche per materie prime sensibili di eh ripristinare eh questi dumping eh e questo ad esempio è il caso della normativa del Sibam. Eh ma ci sono anche eh dei paesi nei quali eh ovviamente eh rivoluzioni industriali in atto si sono accompagnate anche a dei sussidi molto importanti sulle politiche commerciali e questo mi mi riferisco ovviamente ai paesi come gli USA e la Cina. Queste eh politiche che non sono state pianificate eh e mh tese diciamo eh ovviamente a ehm ad ampliare quelle che sono le ehm le quote di mercato eh hanno portato molte industrie ad esempio dell'Unione Europea a eh trasferire le loro produzioni al di fuori dell'UE eh per ragioni ovviamente legate a alla convenienza economica ma anche alla presenza di sussidi e di politiche commerciali eh nazionali più adeguate. Eh quindi mh all'interno diciamo di questo di questa visione e di questa strategia che in parte ovviamente eh è già confluita all'interno eh di una normazione che eh vedrà alle imprese interessate già da molti obblighi eh che guardano come ad esempio eh alla alla rendicontazione di sostenibilità alla supplicia in act eh alla normativa sul greenwashing eh ci sono appunto eh alla normativa che riguarda ovviamente ehm le asserzioni e quindi le dichiarazioni ambientali che confluiranno sulla nuova etichetta digitale eh si applicano ovviamente eh a contesti produttivi nei quali ancora le nuove tecnologie ma anche il supporto ovviamente da parte degli organi di governo non si è dimostrata sufficiente per andare a ridurre quelle che sono le eh asimmetrie di mercato e quindi portare ovviamente eh a i consumatori eh non edotti appunto di queste pratiche a continuare a fruire eh di prodotti in modo diciamo ehm irresponsabile malevolte eh senza ovviamente aver fornito loro anche gli strumenti di un'adeguata cultura e dall'altro ci sono le imprese che ovviamente sono eh sono scoraggiate perché sono schiacciate eh troppo spesso da una logica di prezzo nel quale eh il contesto produttivo ehm legato appunto alla qualità eh e a un a un a una produzione eh sicuramente molto diversa di eh prodotti ehm che mh non è non è non è in grado di recepire per mancanza ovviamente di risorse eh economiche ma eh direi anche di eh di personale che abbia uno sguardo adeguato su tutto quello che è l'aspetto compliance che ovviamente non possiamo lasciare che eh venga ehm completamente rimandato eh a al momento diciamo della dell'obbligatorietà delle norme e quindi che si abbia un uno sguardo precursore su quelle che saranno poi effettivamente gli obblighi e ehm portare anche i contesti produttivi a trasferire nuovo know-how con nuove magari eh figure professionali all'interno dell'impresa che possano eh consentire eh a queste di evolvere e eh di innovare come diciamo in chiave responsabile eh responsabile perché l'attenzione ovviamente non deve essere eh semplicemente legata all'aspetto ambientale come abbiamo detto più volte ma eh deve essere guardata alla eh alla sostenibilità economica che come ci ricorda la piramide di Carroll deve essere comunque eh il primo momento per consentire alle imprese anche di eh evolvere in una struttura di CSR che tenga conto appunto di poi quelli che sono gli impatti ambientali eh sociali ed etici del proprio operato.